E al Tg1 il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio torna a smentire l'ipotesi di larga intesa e se non avremo la maggioranza lanceremo un appello sul programma, spiega sul tema risorse dice pronti a fare investimenti anche in deficit. L'intervista è di Claudia Mazzola. Onorevole Di Maio, lei smentisce ipotesi di larga intesa con PD, Forza Italia e Lega, ma insiste nel chiedere voti nel caso di Parlamento in stallo. Come lo spiega? Le larghe intese le hanno sempre volute PD, Forza Italia, anche un po' la Lega, visto che hanno votato questa legge elettorale, il Rosatellum, che crea instabilità. Noi non parliamo di alleanze né di larghe intese. Prima delle elezioni presenteremo una squadra di governo, saremo gli unici a farlo. Dopo le elezioni, se i cittadini non dovessero averci dato la maggioranza assoluta, allora faremo un appello pubblico ai gruppi parlamentari e chiederemo di convergere sui temi per le persone, non sulle poltrone o sugli scambi di potere. Capitolo candidati, lei li ha definiti super competenti, ma avete avuto molti problemi. Cosa non ha funzionato? Le nostre liste bloccate, quelle che non hanno la preferenza per colpa di questa legge elettorale, noi le abbiamo selezionate chiedendo ai nostri iscritti, gli altri se le sono selezionate nelle segrete stanze di partito. E poi abbiamo fatto un appello pubblico e abbiamo coinvolto 70-80 eccellenze da tutta Italia, mondo della medicina, della ricerca, dell'università, dell'imprenditoria, dell'atletica. C'è Fioravanti che è medaglia d'oro. Queste persone sono il meglio del paese. Se tutti avessero fatto come noi, oggi ci sarebbe un Parlamento migliore. Lei insiste sul programma. Se toccasse a lei, cosa ci sarebbe nel primo Consiglio dei Ministri? Il primo Consiglio dei Ministri deve essere dedicato ai cittadini. Dobbiamo tagliare tutte le ingiustizie, vitalizi, sprechi, pubblica amministrazione che non funziona. E poi 400 leggi da abolire per lasciare in pace imprese e professionisti, iniziando da split payment, spesometro, redditometro, studi di settore, tutta roba da abolire. Nel programma anche voi parlate di abbassare le tasse, più welfare, misure per le famiglie, reddito di cittadinanza. Ma cosa tagliate per trovare i soldi? Prima di tutto tagliamo dagli sprechi con una spending review seria. Io non voglio ricominciare da capo. Ci sono piani fatti dai commissari della spending review che funzionano. Li dobbiamo solo applicare e attuare. E poi, se servirà, faremo anche degli investimenti in deficit. Perché per aiutare i pensionati con la pensione di cittadinanza e le famiglie che fanno figli, io non voglio avere vincoli europei che mi strozzino. Andremo in Commissione Europea e chiederemo quello che ci è dovuto.